Rossa, appena inciaccata e longa, ecco la jibola moidinca. Oggi è tempo di ragorta per Jean-Paul, Robert e Jean-Charles. Tanto i bastori ne mandiavano assai per stanciare assai. Ma di queste jibole ne fermavano i boghi nel 2010. Cuscenti di uberigolo, i tre uomini hanno lanciato una soggio da valla a ribiafiato. Abbiamo deciso prima con Jean-Paul e Aldi, dopo con l'Astri, di lavorare con la salvezza. Abbiamo fatto un orto in un po' di sette o otto anni. Abbiamo fatto questo. Il nostro lavoro è stato veramente questo, senza altro. Quest'anno sono 15.000 jibole e si è pianta da prodì la soggio. e si danno i trecenti più belli per fare le doppaglie. Questo è sempre verde. Tutto verde. Questo è il modo di impaccio. Per ottenere questo, il settembre-ottobre, abbiamo messo in piazza le doppaglie. Abbiamo messo le doppaglie. Le doppaglie di un riboduttore di una jibola. Infatti abbiamo le più belle jibole che ci restano, che ne mettiamo aperte, per avere tutta questa varietà di rane. Tutta questa aumenta di rane. È un peccato che non sta a vivere, non c'è un amico loro. Un'amico di un'amico. È un peccato che non sta a vivere. 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 Qualcun città che più è una dimensione,